Il Cluster Music Festival taglia il traguardo delle 10 edizioni. Il programma della manifestazione, che si terrà dal 9 a 24 novembre, è stato illustrato dagli organizzatori nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte, principale sostenitore del festival e dell'associazione lucchese, nata con lo scopo di divulgare la musica contemporanea. Abbiamo aperto le porte a tutto il mondo, siamo in collaborazione da Tokyo al Paraguay, dall'Azerbaijan alla Germania, al Messico, eccetera. Sta diventando una cosa che è esplosa, veramente grande, specialmente con l'avvento di Girolamo de Racco, direttore artistico della Rassegna, di tutta l'attività, che attualmente è in Paraguay. Mi ricordo anche che il 25-27, anzi a Paraguay, verrà eseguita in Prima Mondiale una sua opera, commissionata a lui e quindi alla Cluster, dal Ministero degli Esteri sul tema dell'immigrazione. Sei appuntamenti divisi in tre weekend, con un calendario che, dopo il concerto inaugurale, prevede il restital dei pianisti Ilaria Baldaccini e Stefano Teani e quello del pianista Massimiliano D'Amerini, uno dei maggiori concertisti italiani. Ultimo weekend pomeridiano, il 23-24 novembre, nella casermetta San Colombano, con altri due famosi artisti, il maestro Fabio Vacchi, presente con una master di composizione, e il fisarmonicista Francesco Gesualdi. Ma all'apertura del festival, sabato nove, vedrà anche la presentazione del primo libro dedicato alla musica contemporanea, realizzato da Renzo Cresti. Sì, in effetti questo è il primo libro, perché si parla tanto di musica del presente, ma se ci chiediamo chi sono i compositori di oggi, cosa fanno, come lavorano, come vivono, Ecco, questo libro dà alcune risposte.